Buongiorno, è cessato l'allarme missili questa mattina sui due confini, quello meridionale con Gaza e quello settentrionale con Libano. Quindi gli israeliani che vivono nelle città proprio sul confine sono potuti uscire dai rifugi. Rifugi in cui hanno passato tutta la notte perché è stata davvero una notte di fuoco e l'aviazione israeliana ha fatto dei raid sia sulla striscia di Gaza colpendo almeno 10 siti di Hamas che anche a sud del Libano. Intorno, vicino a Tiro, proprio da dove erano partiti ieri pomeriggio 34 missili. È un nuovo fronte che si è aperto ieri che preoccupa Israele, accusa le milizie palestinese di Hamas presenti nel territorio libanese di essere alla base di questi attacchi. Hezbollah nega responsabilità ma certo è difficile che senza il via libera di Hezbollah siano potuti partire 34 missili dal territorio che è da loro controllato. E anche la missione dell'Unifil che appunto sta nella zona Cuscinetti, ricordiamo anche Guida Italiana, dice che però nessuno in questo momento vuole la guerra. Certamente è difficile che Libano voglia una guerra con Israele nella piena crisi economica e sociale in cui versa o mai da diverso tempo. La miccia è stata come anche ricordavi certamente la spianata delle moschee, gli scontri che ci sono stati dopo le due eruzioni notture dell'esercito israeliano. Oggi è il terzo venerdì di Ramadan ma ci sono migliaia di fedeli adesso in preghiera proprio nella spianata ma la situazione per adesso lì è assolutamente tranquilla. Ci sono 2000 poliziotti schierati qui nella città vecchia a Gerusalemme che vigilano non solo l'ingresso di la spianata ma anche la via dolorosa dove questa mattina si è svolta la tradizionale via Crucis guidata dai francescani Terra Santa con centinaia di pellegrini in una situazione assolutamente serena. La speranza è proprio che non ci siano ulteriori escalation. Dobbiamo anche dare un ultimo dato di cronaca, c'è stato un altro attacco nella valle del Giordano in cui sono morte due cittadine israeliane proprio poco fa. Quindi la speranza è che non continui questa violenza, la linea può tornare a Roma.